Una nuova puntata di Sballarori dove parleremo del momento che l'Italia sta vivendo e parleremo insieme al professor Orazio Pancrazio Scusi, no, se stavo presentando un attimo, signor De Soli Il professor Orazio Pancrazio Pripuzio Maria che presenta il suo libro Il mio libro, presenta il mio libro, dieci motivi per entrare nel cun Ecco, un libro scritto dal professor Scritto a due mani, mia con la prefazione di Gabriele Pontello e editore Lamazza Perfetto, abbiamo Aspiro Erba che, buonasera Oh, stiamo parlando Stiamo parlando ma non è Cosa è successo? No, c'è la trasmissione, siamo in diretta Saluto anche la signora De Solina che rappresenta i pensionati d'Italia Allora, io vorremmo dire che molta gente si lamenta per la pensione Adesso con 300, 400 euro uno si compra almeno il pane Adesso il pane? Almeno un pezzo di pane uno si compra E con panattico? Con panattico va, papà ci vuole E poi abbiamo Thomas, un ragazzo che viene dal Senegal Mustapha Ah, Mustapha, scusi Mustapha, da Senegal Sì, mi viene a Thomas, un ragazzo di... Io c'ho un amico a Senegal Senegal, Senegal E scusi, un attimo Amico, si grattevici del parcheggio Mi ha fatto subacqua Il parcheggio me l'ha stracciato e non l'ha messo la musa Sta arrivando, scusate, sta arrivando un po' lì Chi sta arrivando? Oh, accogliamo con un applauso Anche la karma Accogliamo con un applauso L'onorevole splendido, splendente Eccolo qua Voglio esprimere il mio dissenso Perché non c'è rispetto per le autorità Non c'è rispetto per le istituzioni Parle, imbecille Scusi, onorevole Io mi scuso C'è ragione, c'è ragione Perché il signore L'altro giorno ho fatto questa colletta Per comprarmi la birra E non mi hanno dovuto dare la birra A 50 centesche Vabbè, ci sono tu Se si... Lei mi sta a colpa E' Y Che li ha fatti sollevare Allora, per quamore E a me la pensione non me l'ha data allo stesso Lui che... Ha detto che l'ha brava Ma ha detto che l'ha... Mamma mia Ha detto che l'ha data No, scusate Allora, scusate Non perdiamo il controllo Allora Non perdiamo il controllo Perché l'onorevole dica Se state passando allucinogeni Prima di cominciare No, la gente è arrabbiata Se stanno buoni non ci sono problemi Ci caliamo anche Allora, scusate Guardi, questi cinesi devono andare via E non è cinese Senegalese E non è cinese Signora, ti do l'ho Una signora con i baffi Ma era signora baffutta Ognuno ha le lamette che ruone Allora, si fa... Ecco E ribatto Scusate E adesso faccio No Ehi Scusate Così Cosa c'è? Ma te sono tanti occhi Ma non è stato tanti occhi E' un ragazzo Ma te sono bastantefisi Cosa? Cosa c'è santefisi Ma santefisi dove? O che hanno passato quando è andato a santefisi Si è passato a Carrebo Si è un monastro Puff Sa multa Quando è andato a 25 Vabbè, adesso si siete Si è come di qui Si è come di qui Non si fa Santefisi dopo una Ma te la santefisi non ti fanno Ma la santefisi No, ci abbiamo... Abbiamo il meglio del meglio Allora Perché voi dite che la persona la date e non la date Allora, io non la conosco Non so Non so E' un momento d'arte La ballerina della scala Le quali? La perché si spacca, si spacca, si spacca Attacca Ho sentito come il suono di ventosa Scusate 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 Venga, venga La ballerina Ma ti sta salendo Ti sta Scusate Scusate Allora Per favore Non fa No Allora, scusate Si accomodi Animale Mi dica Signora Desolina Come l'avete levata Ha lasciato un buco interno Signora Desolina Lei da dove viene? Scusi Lei da dove viene? Io vengo da Sardegna Ma lei è autoctona? No, quanto fa? Non ho capito Allora, Norevole Ma ti senti che sono i banali Sono sedi Della sua patate Dicono Ma Norevole Ma come fai? C'è con lui il frattempo A me la zittisci Ma non me la fai Ma è possibile Che veramente Non si possa parlare Di politica Allora, prego Siamo anche Stando a voi un ciocchetto Mi giochiamo in una sola Poff Mendo una tua Molto suido Scusate Scusate Che cosa è la cosa? Scusate Ma lei di dov'è? Che cosa è la cosa? Di dov'è lei? Ma sei col povolco Ma di dov'è? Dove nasce lei? Di dov'è? Di che paese è? Sì, è il Grosone Calla Prego Norevole Signor Massimiliano Ancora Signor Massimiliano Le scarpe di questo ragazzo Sono Adidas in Forest Allora Scusate Scusate In un'arena Un sense Un sense Un sense Ma lei perché Grosone? Non mi sente? Allora Per favore Un attimino Parliamo di cose che Allora Buonasera Buonasera Massimo Per cortesia Cosa posso portare Stasera? Buonasera Un maccarlone Ma lei non ha già cenato C'ha il marsupio gonfio Le A carlo Un bagno Sì Trattali a compiseli Vabbè Ma la porti Cosa apprezzo Adesolina Io ho un maccarlone Per fare il rutino Se non ha mangiato Cosa deve fare il rutino? Eh Non me lo faccio Lei cosa prende? Porti quello che ha Zepola Vai Cosa saluta? Dai C'è gente Prego Prego Zepola Non si è messo zepola Allora Prego E' mono zepolato Ragazzo Balla 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 Concetta Che la vita Trascore in fretta Dietro la Balla 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 Concetta Che la vita Trascore in fretta Dietro la Balla 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 Concetta Che la vita Trascore in fretta No dai Dai E rimane E lo sta barutando Stavamo dicendo Stavamo dicendo Andiamo a quagliare Che Se no Abbiamo tre minuti Tre minuti Dobbiamo dire Tutto quello Che sono i problemi In piazza del Carmine E' pieno di quaglie Piccioni C'è non fa Quando mi sento Nella panchina Da chiave Me la merda Cosa Ne lo dà uno schiaffo Tonino Per favore No Non mi dà uno schiaffo Come le calze Signorate Troppo caro Troppo caro Non servono a niente Siamo in diretta 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 Non mi mancava Sì Guardi lei Lei è responsabile Di questa Sì però Se lei non parla La colpa è mia Eh certo Ma è quello Che è parlato a me Esprimiamo un concetto Eh esprimiamolo Ecco Il gabinetto Dove Lei Come vuole che se lei Francia il loco Lei Cosa deve fare Liquidi o se Eh allora Eh ridagli il premio Ti prendi Ehi bravo Ma c'è anche C'è anche La produzione gas Faccio Faccio Questa è una Maleducazza Sì è scemo Ma ma che non si siede Andiamo Ma scusi Lei è autottona Ma quanto è che va Il 8 e 8 16 Quanto ho fatto 16 16 Andiamo a finire Questo discorso Che cazzia E non discuti Dai Mancano due minuti e mezzo Approfitto di questo Spazio mediatico Non è in grado Questo A reti unificate Siamo a reti unificate Ma allora Dicendo Ma come lo dice Adesso non parla No Dicendo Arretti unificate Allora stiamo parlando A livello mediatico I media Ah non ho capito Prego Essendo Chi Per il paese Un momento Estremamente delicato Perché mi devi alitare Nell'orecchio Questa E c'ha un odore di rosa Cos'è che c'ha? Prego Un odore di rosa Andiamo avanti Che dieci La seguo Con interesse La seguo Con interesse La seguo Con interesse Continui Ragazzi Mi ha tirato Un occhio In bocca Col muro Ce l'ha un pezzo Per suggerire Che sono me Uno stosiccadetti Ce l'ha signore Cosa c'è Dica Ecco qua La degustazione Questa ragazza Voleva Se vuoi Porti le cose Voleva mangiare Stai zitto Un po' al figlio Un po' al padre Voleva Ma andarlo Come li prova Allora Prego Com'erano? Tenga Allora no Io direi che potrebbe anche chiudere questo momento Che resterà sicuramente nella storia Della Si Ci ha arrivato un mezzo hit di sugo Chiudiamo questo intervento Stai cercando il cambio Cos'è? Prego Ma per le pensioni Cosa Pesso è fatto Ancora Le pensioni Più avanti Ma le stiamo facendo con le mani Va bene Io a questo punto direi che quello che dovevo dire è stato detto Ma che cosa Ringrazio tutti Grazie a lei Passiamo un applauso all'onorevole splendido Grazie Non ho parlato e mi fischiano E noi ci vediamo la settimana prossima con lo sballarori Ah grazie Se bastardo Era per sigellare questa conta Prego sigla C'è una bocca asciutta Possiamo anche andarcene Perché non è che invecchiamo qui Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti